Abbastanza carino, scorrevole, semplice, tutto veloce, un po' di fretta diciamo. Un po' troppo? Un pochino tanto diciamo, carino, per qualche figa. La grafica era veramente bella, diversa dai soliti film, comunque era anche scorrevole, come ha detto lui. Secondo me non troppo. La storia era fatta bene, però è un po' un classico, un po'... cioè te l'aspetti alla fine? Ma devo dire che non mi piace il genere fantasy, però non era malvagio. Era bellissimo, grandi definiti speciali, stupendo, veramente stupendo. Mi aspettavo di meglio, sinceramente. La storia, sì, non male, non male. Storia piaciuta, anche come attore, è sempre il migliore. Voto darei un 7. 10, 10, 10. 7, 8. Un 8. Sì, sempre un 8, 9, una roba del genere, comunque è molto apprezzabile alla fine.